Per i tuoi crediti FIFA 17, scegli i migliori, scegli i più veloci, scegli i GVolt, link e codice sconto qui sotto in descrizione L'hype è veramente troppo, troppo grosso e quindi salutiamo subito l'ultimo like su Instagram passate in descrizione Per tutti i link ai miei social network, tutti i link ai canali di Braille, iscrivetevi dappertutto L'ultimo like è di Federico, Ferrarista Formula 1, quindi ciao Federico, ho visto che te più Juventus mi stai già molto più simpatico E poi ragazzi eccoci qua, eccoci qua, ci siamo, possiamo iniziare la partita contro il Milan E ci sarà l'esordio di tanti nuovi giocatori che sono arrivati, che fanno il loro esordio a San Siro Bernardeschi, Spinazzola, Locatelli, l'esordio con la maglia del Sassuolo, è proprio contro il Milan Eccolo qua a San Siro, c'è il debutto di Federico Bernardeschi che ha preso il numero 7, 6 milioni più Frank Ribéry che va alla Fiorentina E adesso dobbiamo smollare Robben, e c'è un nome caldo, Lorenzo Insigne, per fare Berotti, Insigne, Bernardeschi, Berardi Mamma mia, che 4 giocatori italiani fortissimi Eccolo qua Bernardeschi che tocca i suoi primi palloni con la maglia del Sassuolo Che acquisto Bernardeschi Con il tacco, subito personalità, attenzione perché si inserisce, prova ad andare subito dentro Bernardeschi, ancora, si vuole appoggiare, lo fa per Spinazzola, Spinazzola, il cross Dentro, e c'è subito il gol, la toccano tutti i nuovi Bernardeschi, si appoggia Spinazzola, che la mette dentro Sturaro, insacca di testa, 1-0 contro il Milan, dopo 4 minuti L'azione nasce dalle forze fresche, e Sturaro in testa, insacca Il nuovo Don Sa, è proprio Stefano Sturaro, ma che assist, subito di Spinazzola Quarto gol, anche per Sturaro in campionato, insieme a Pellegrini ne stanno facendo tantissimi Che bello partire così, che bello avere un Sassuolo giovane, italiano e fresco Con tanta voglia di vincere, con tanta voglia di sollevare il campionato, la Champions League Di scrivere la storia, Sturaro, prova ad allungare la squadra adesso Belotti Attenzione perché c'è Bernardeschi che porta via un uomo Bernardeschi, dentro, Belotti, ancora per Sturaro, in area Sturaro La riprende Bernardeschi, la mette dentro Pellegrini, l'uomo dei miracoli della scorsa puntata Dentro per Bernardeschi, attenzione, si gira un passoletto Sul mancino Bernardeschi il tiro Saponara, che è andato al Milan, prova la grande palla per Buonaventura Attenzione, ancora Buonaventura, la prende Donnarumma E poi non ci credo Che cosa mi tocca vedere Cos'è successo, ma Montolivo addirittura Cosa mi tocca vedere Non stavo neanche parlando perché Ero convinto non entrasse Donnarumma con i piedi Palla rinviata, Montolivo tira da casa sua Donnarumma, non fa in tempo a tornare Palo, gol No No Non può succedere Una cosa del genere Non può avere appena segnato con Sturaro Cosa mi tocca vedere Dobbiamo subito rialzare la testa Dobbiamo subito andare a cercare Un'altra volta il gol Bernardeschi Pellegrini A cercare ancora Andrea Belotti Belotti Dentro per Bernardeschi Esterno Ancora una volta Belotti Bernardeschi Cerchiamo Locatelli Attenzione Locatelli Contro il Milan Locatelli Contro il Milan All'esordio Con la maglia del Sassuolo A San Siro Contro la sua ex squadra Quella che tiva sin da bambino Che cosa fa Gomez Perde il pallone completamente E ritorniamo subito in vantaggio Lo facciamo con Manuel Locatelli Il destino Donnarumma che gioca da noi La papera Il gol del Milan E poi Locatelli Che ci riporta in vantaggio Questa partita è stranissima Prima l'assist Di Spinazzola Poi il gol di Locatelli Bernardeschi Tocca a te Sturaro Larga ancora una volta da Bernardeschi Che può tornare Verso il centro del campo Ancora Bernardeschi Con il suo dribbling Con la sua velocità Col suo talento Serve Berardi Un altro che di talento Ne ha da vendere Pellegrini Dentro così Per il compagno Attenzione perché Sturaro si butta Sturaro la recupera E poi Belotti Fa correre Berardi Nello spazio A destra Berardi 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 Sempre Berardi Il più veloce di tutti Berardi vuole andare Sul secondo palo Dove arriva il colpo in testa Dei compagni Ancora Belotti Attende che arriva Locatelli Locatelli Poteva essere la doppietta clamorosa Attenzione perché Kicco è da solo Kicco libero Può andare Ancora Bernardeschi Ce l'ha sul sinistro Bernardeschi lo prova Usciamo benissimo con Romagnoli E faccia ripartire piazza Ancora piazza Ancora piazza Dentro così Per Bernardeschi Però questa volta Berardi da solo Bernardeschi lo serve Il palo di Berardi Ancora porta vuota Berardi che cade Non ci credo Cosa ha sbagliato Mimo Cosa si è mangiato E questo potrebbe Essere pericoloso Perché comunque La partita non è ancora chiusa Quindi o la sblocchiamo Ma la chiudiamo definitivamente adesso O questo palo Potrebbe essere Un pentimento assurdo Bernardeschi In area Bernardeschi La parano Qua con la testa La mette dentro Suso Proviamo ad allontanare Ancora una volta Suso Che la vuole andare a prendere Suso Suso contro Rugani Lo salta La mette dentro Usciamo bene Bernardeschi Fa partire Piazza sull'esterno C'è Diavara Attenzione Diavara Vede Piazza ancora Gliela ridà Gliela restituisce Esce il portiere Fuori dai pali Deve spassarla così Ci siamo ancora noi Riusciamo a conquistare Il passaggio della palla Capitan Magnanelli Ancora lui Dentro per Piazza Larghissimo Può fare quello che vuoi C'è Bernardeschi Si appoggia A Diavara Dentro da Berardi Ancora Mimmo In area Mimmo Prova a giocarla Prova a tenerla E poi vede un compagno libero E Piazza Il tiro di Piazza Fuori Ma la partita finisce Stradominata da questo Sassuolo Che innesti incredibili abbiamo fatto Hanno giocato tutti alla perfezione E il Napoli ha perso 2-0 Assurdo Veramente assurdo Quello che è successo in questa giornata Siamo a più 6 sul Napoli Abbiamo 3 mail da andare a leggere Sono contento Offerta per il trasferimento Diavara Ci voglio rubare tutti i centrocampisti 11 milioni sono pochi Però Io ne voglio almeno 18 18 milioni lascio partire Diavara Kishna è 3 milioni per Zappa Costa Robben è 20 milioni per Insigne Io avrei in testa di provare A restituire Sturaro a Juventus Ma ho paura di non fare in tempo A fare il giochino che abbiamo fatto con Piazza Quest'estate Vabbè Una controfferta Almeno 3 milioni e mezzo Per Cipsa ce li date Dai 3-6 Il problema è che la Juve sta venendo fuori forte Sta venendo sottoforte Di noi nella classifica E adesso C'è da andare ad affrontarla Robben è 20 milioni per Insigne Il Napoli avrebbe accettato E ci hanno detto che Zielinski non è in vendita Non ce lo vogliono vendere assolutamente Di questo mi dispiace perché l'avrei veramente voluto Marchisio vogliono 51 milioni e mezzo E io purtroppo 51 milioni e mezzo per Marchisio non ce li ho Ma mi piacerebbe poter sfruttare Marchisio Usarlo a centro campo Vediamo se invece di Insigne ci danno Marchisio Robben è 10 milioni Robben è 15 Va là Perché tanto Davanti abbiamo già tanti giocatori C'è la Juve e devo giocare assolutamente E poi c'è la Sampdoria E c'è un'offerta di trasferimento per Ajapong Ok ragazzi ho deciso Giochiamo con la Juventus Poi c'è la Coppa Italia con la Samp Che simuleremo Appena finito questa partita con la Juve Proveremo a fare il giochino con Sturaro Per provare a comparare anche lui 15 milioni per Diavara Io li accetto assolutamente Non posso ripetare 15 milioni per Diavara E poi provo a prendere sia Marchisio E anche dopo per Asturaro Giochiamo con i titolari I bernadeschi non riescono a capire Perché è sempre un pelino stanco Ma va bene così Tra l'altro stiamo giocando spessissimo Con il falso 9 E ci troviamo bene 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 Juventus Stadium Juventus Sassuolo Questa è la prova del 9 È la prova della verità C'è i Guain Ci sono tutti O a me neanche i Guain Bisogna contenerli Ma c'è anche Marchisio Che potrebbe arrivare Diciamo che i giocatori della Juve Sono molto tecnici E non ci fanno vedere palla 1-0 Subito ma in questi primi 4 minuti Avevamo fatto Un possesso asfissiante Un tic tac allucinante Arriva Pianici Da rapace Infila Donna Roma 1-0 Le ultime partite Sono iniziate sempre Con il nostro vantaggio Questa parte Al contrario Proveremo a risollevarla Soprattutto con i nuovi Spinazzola Ancora lui Spinazzola Proprio di proprietà della Juve Prova a saltarli La viene a prendere Pellegrini Spinazzola ancora Ehi messo giù Questo è fallo Sturaro Dentro per Belotti Attenzione Largo Proprio da Bernardeschi Ancora dentro Belotti Belotti Va a cercare Berardi Attenzione perché si butta dentro Locatelli Ancora Aubameyang Non riusciamo a prenderlo Con Pellegrini Aubameyang va 100 volte più veloce La mette dentro per Keidira Ma tiene il possesso di palla Keidira La mette dietro per Aubameyang Donna Roma Ancora Aubameyang Palla dentro per Quadrado Riusciamo a toccarla quanto basta Higuain spalla la porta Higuain Si gira È pericoloso Serve Aubameyang Ancora più pericolo Eh mamma mia La Juve sta veramente giocando Solo solo lei Alex Sandro Arriva sul fondo anche lui Cioè Berardi torna a coprire E non è efficace Non ci si riesce a giocare contro la Juve Quando è in giornata Dentro Così Pellegrini Dai Possiamo andare Possiamo andare Belotti allunga la squadra In mezzo ai centrali Ancora dentro proprio per Pellegrini Pellegrini Va a cercare Belotti Belotti dentro Sempre per Pellegrini Eh l'han capita Alex Sandro Mette un cross importantissimo Per Higuain Arriva Quadrado Quadrado ancora Urugani ancora Quadrado L'ha sbagliata No la parata Donna Roma Meno male Ancora Aubameyang Ancora Sempre Aubameyang Che ci porta a spasso Resiste alle cariche Ci vogliono tre giocatori Per rubargli palla Ma poi quando ce la facciamo Possiamo ripartire Locatelli Dentro per Berardi Mimmo non sei stato bravissimo In questa partita Non ti sei mai visto Cerchi di accendere la lampadina Ancora Berardi Forse è fallo di Bonucci Non l'ha ritrova a giocare Uscito Marchisio Entrato a Samoa Perché Marchisio Deve preservarsi Perché deve venire Assolutamente a casa con noi Belotti Mamma mia Che fortuna Riusciamo in qualche modo Grazie a Lemina A partire in contropiede Belotti 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 Non lo sbaglia il gallo Un regalo incredibile Della difesa della Juventus Incredibile questo errore Non ci credo Possiamo andare col gallo A tu per tu con il portiere E in fila L'unica occasione Che abbiamo avuto Siamo riusciti a trovare il pareggio A bucare netto Pensavo di non riuscire mai più A rimetterla in carreggiata Questa partita Non siamo mai riusciti a tirare Ma il gallo Il gallo è tornato a segnare Il gallo Insomma tutti i suoi giocatori I suoi amici italiani Trova l'undicesimo gol In Serie A 1-1 Allo Juventus Stadium È tutto aperto Deciglio La recupera E c'è Berardi Che può darne lo spazio Attenzione Perché possiamo provare Il colpo grosso Allo Juventus Stadium Borucci contro Berardi Fallo di Borucci E noi facciamo dei cambi Perché l'ottantaduesimo Ci sono dei giocatori Come Pellegrini e Locatelli Che non ne hanno più Sarebbe tutto molto bello E romantico Riuscire adesso a segnare Proprio la Juventus Con Rugani Lo stop e il tiro Vabbè ma abbiamo chiesto troppo Ancora Magnanelli Scarica il pallone Susturaro Verticalizzazione A cercare il gallo Belotti Attenzione perché Sono partiti tutti Dentro così C'è Berardi Dentro per Magnanelli Era già successo il gol Alla Juventus Poteva replicare All'ultimo secondo Ma se ne va Alexandro Probabilmente anche Le speranze di vittoria 1-1 E' andata da Dio Allora il Toro Accettato per Zappacosta E Calabria e Mattiello Stanno rompendo le palle E adesso possiamo Provare a fare Quella manovra Che vi dicevo prima Susturaro Cioè Provare a terminare Il prestito E a comprarlo In questa sessione Di mercato Abbiamo 32 milioni di euro Abbiamo un'offerta In corso per Diavara Abbiamo ancora Robben E quindi possiamo Eccolo fatto E' tornato la Juve Informazioni su Sturaro Ah tra l'altro Va in scadenza di contratto Quindi Devono abbastanza liberarsene Vediamo Sturaro A meno di un'area di contratto Ma sta giocando alla grande Sì Con noi Potrebbe servire un'offerta Tra gli 11 e i 15 milioni Beh 15 milioni sarebbe Regalatissimo Sturaro Per quello che ci ha fatto vedere Questo episodio sarà Leggermente più lungo Ma voglio finire Il calcio mercato Qui interno Se ne è andato Diavara E vogliono 19 milioni per Sturaro E noi abbiamo offerto i 15 Quindi Proviamo A finire Proviamo a simulare La partita con la Sampi I giocatori sono un po' stanchi Ma fa lo stesso Florenzi Forza la sua partenza Dalla Roma Potrebbe essere Un bel colpo Anche Florenzi Quindi Subito ci proviamo Ci proviamo assolutamente Mi ha vinto 2-1 E chi ha fatto gol Anche una volta Pellegrini Sono preso veramente Da Dio Sono contentissimo Offerta per il trasferimento Berardi Non credo Zappacosta accettato Offerta bassa per Marchesio Venduto a Gia Pong Offerta bassa per Sturaro Noi 19 milioni Te li diamo Alla grandissima Eccoli qua Zappacosta Per chi Nei 5 milioni Potrei quasi Quasi farla seriamente La faccio È arrivato anche Zappacosta De Sciglio Si siede in panchina Mattiello Se ne va in tribuna Perché tanto anche lui È in prestito E lo mettiamo qui Adesso abbiamo Tanti bei giocatori De Sciglio Caldara Mattiello Calabria E va bene Va bene Ci sta la panchina lunga E dato che Florenzi Forza la sua partenza Dalla Roma Chi siamo noi Per non provare A prenderlo Dato che può fare Benissimo il centrocampista Anche Florenzi No Se ne è già andato Dal Bayern Se ne è già andato Al Bayern Florenzi sarebbe stato Veramente bello Accettata l'offerta Per Sturaro Quindi Sturaro Se ne torna Assolutamente Da noi 5 anni di contratto Giocatore chiave Prima squadra Assolutamente Sturaro ti do quello che vuoi Cioè non puoi assolutamente Andarti nella mia sassuolo E non potremo finire Il calcio mercato In questo episodio Perché ci sono L'Inter e il Napoli Sturaro ha accettato Quindi assolutamente Lo riprendiamo con noi Sono contento Di essere riuscito A riprenderlo A titolo definitivo Mi serviva Assolutamente Sturaro Intanto la Juventus Ha accettato 21 milioni E Robben per Marchesio E questo è un colpo Il cuore importantissimo Perché Claudio Claudio per me vuol dire Tanta tanta roba Mamma mia Ma è impossibile Prendere Marchesio Non ci credo Anche è vero che Sia Benassi che Baselli Sono due profili interessanti Per i quali ho fatto un'offerta Ci sono tantissime mail Ma ci sono l'Inter e il Napoli Andare a affrontare Marchesio avrebbe accettato Il Torino avrebbe accettato 22 milioni per Benassi Eh Però Baselli Vogliono tanti soldi di più Mamma mia ragazzi Adesso è veramente difficile Anche perché Al massimo con Benassi Posso provare Ad abbassare Offrire qualcun altro Ma c'è anche Marchesio Che ha accettato Sono troppo indeciso Niente Devo interrompere l'episodio Perché se no vado avanti a Ultranza Ma Sono proprio contento